Buonasera signore e signori, sono AC88, benvenuti quest'oggi nella nostra decima parte Sì, ma che dico decima parte? La nostra quarantesima parte La decima la devo registrare ancora della Nazalook Challenge No, credo l'abbia già registrata Comunque sia, quest'oggi andremo ad affrontare Iris La, appunto, campionessa della Lega Pokémon E, niente, la squadra è a posto, quindi possiamo teletrasportarci verso di lei Verso la sala principale E ho dato uno sguardo al Pokémon che utilizzerà Iris E, allora, avrà un Hydrogeon, un Dragidon, Aggron, Archeops, Lapras e Axorus Ovviamente, la maggior parte sono tipo Drago Tranne, vabbè, Aggron, Archeops e Lapras Quindi 3 su 6 sono Drago La mia strategia era di piazzare davanti i Nami Però, allora, Hydrogeon, dato che è il Pokémon che apre le danze Secondo me ha un attacco acqua Un attacco fuoco Una mossa Drago per forza E un'altra che non ne ho la minima idea Cioè, mi sono fatto almeno questa, appunto, idea Allora, bisognerebbe lo mettere un Pokémon davanti Che abbia un'ottima velocità Il problema, quale è? Che sicuramente Nami ha 125 Quindi non è proprio uno tra i Pokémon più veloci che abbiamo Anche se, devo dire, è abbastanza veloce L'unico è mettere e lasciare davanti il nostro Flygon Perché, appunto, ha 133 e 149 di attacco E il problema è che se mi attacca Cioè, io penso che Hydrogeon abbia più attacco speciale che non fisico Quello fisico ci avrà Axorus sicuramente E quindi, secondo me, è la scelta più opportuna da utilizzare Poi, a seconda di quello che mandano Ovviamente noi ci gestiamo Se manda immediatamente, non credo che mandi Aggron Manderà Dradidon E poi via via gli altri Quindi La strategia un po' si modificherà Allora, volevo dare un avanzi A Gellicent E poi, vediamo un po' che Ehm Che ridu... Oh, Lumi in polvere Strumento da far tenere a un Pokémon E metto un bagliore insidioso che riduce la precisione dell'avversario Ecco, giochiamo scorretti Questo potrebbe essere utile Allora, sistemiamoci un attimo le cuffie E poi vediamo un po' cosa altro possiamo avere Cune di fuga non credo che ci servano Non mi ha servo nemmeno Un flauto Eccolo qua Io darei questo Sì, sì Ok, perfetto Abbiamo potenziato anche le mozze tipo Drago Quindi un Draga Artigli Allora, arriviamo da Iris E troviamo qua una statua Iper-ebnorme Dietro con il sole Credo che siano i pianeti Quelli che ruotano intorno Ovviamente la Terra è la seconda Perché quella lì è No, sì Quella è la Luna Ha il simbolo della Luna Poi abbiamo Dovrebbe essere Marte E poi quello laggiù Credo che sia Venere Boh Non lo so È Viola Boh E Ci mette anche un sacco Boh Non lo so Comunque Inizia la sfida contro Iris Ziu Pfff Distruzione totale E fa la cacca E mi è uscito Scherzo Il suo primo Pokémon è I-Dragon Come vi avevo detto Non mi riesce mai pronunciarlo Questo Pokémon Quindi lo chiameremo Questo Pokémon Mandiamo Flygole E ovviamente Per la nostra strategia Draga Artigli Vediamo un po' Usa Drago Pulsar Ovviamente lo sapevo Speriamo che Flygole resista E dopo Super efficace KO con un attacco Perfetto Quindi mandiamo Gellicent A questo punto Credo che I-Dragon Abisgranocchio A questo punto Mi sono fatto questa idea Non lo so Te la dico così Invece no Drago Pulsar Penso che resista Drellicent Sì Perfetto Usiamo Gelloraggio Vediamo se lo mandiamo KO Ma manco per il Pene Dobbiamo utilizzare Un'altra volta Gelloraggio Perché Se no Ci si perde Perfetto Il secondo Pokémon Ho mandato KO E Gellicent Perfetto Allora A questo punto Mandiamo Nami Per me Ovviamente Ci avrà mossa Tipo Idropompa O Surf Data 1 e 10 Usiamo gli oltraggio Infatti Ovvio Ovvio che non ce l'aveva Vabbè Resiste Speriamo che Lo possa distruggere Con un attacco Eh vai Buono 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 Dai Allora Sarà Aggron Perfetto E a questo punto Mandiamo Inox Perché Aggron Ha sicuramente Terremoto Mose del genere E quindi con Inox Forse È Ovviamente Più veloce Spero che gli possa Fare qualcosa in più Usiamo gli Fen di Foglia Sperando che Un attacco Lo mandi KO Ma come Ma come È vero È acciaio lui Porca miseria Allora A questo punto No Però io mi ricordavo Che Boh Mi sembrava che Beh Forse mi sbaglio Usiamo un revitalizzante Max Immediatamente Su Gellicent Tanto Inox Ce la può fare A resistere Ok Un altro Revitalizzante Max Ho bisogno di Più Pokémon Possibili Quindi a questo punto Curiamo Flygon Perfetto Utiliserà Sdoppiatore Io manderei Gellicent Perché Mose di fuoco Oltre a Nami Non ci sono E non voglio rischiare Un secondino Devo un attimo Curare Però devo capire Perché Fen di Foglia Non gli ha fatto Assolutamente niente Quindi usiamo gli surf Vediamo un po' Quanto gli possiamo Tipo togliere Vediamo 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 Un po' con un attacco Super efficace Quindi era Infatti Non riesco a capire Il perché Oh manderà Lapras E noi ovviamente Manderemo Capitano Kid Cioè una volta Lo potremmo anche sapere Ma adesso Non me ne ricordo Il perché Allora mandiamo Capitano Kid Al 56 Dai dai Sconfiggiamo Lapras Usiamo gli Fulmine Non so perché Volevo usare Suono Pugno Ma Fulmine Mi ispira Mi ispira di più Esatto Uh Canto Attenzione Evita l'attacco Capitano Kid Non si fa nemmeno Attaccare Grande 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 Capitano Kid Grande Capitano Kid Sarà a livello 57 Mamma mia Axorus L'ultimo Pokémon No il penultimo Perché Idreggion L'ha fatto Draddigon Non l'ha fatto Agron Lapras Ok Allora A questo punto Io manderei Però Secondo me È abbastanza veloce Perché sarà più veloce Idreggon Sarà più veloce Anche Axorus Vediamo un po' A 59 Secondo me Sì Poi Boh Non lo so Drago Danza Perfetto Noi abbiamo Una mossa Che è super efficace Per 2 E più anche La lastra Che potenzia le mosse Tipo Drago È super efficace Eh Qui Siamo K O Se non usa Doppio colpo Eh Sì Vabbè Il peggio Tarocco Il peggio Tarocco Allora Eh Qui ci vorrebbe Una mossa Che d'attacchi Eh Proviamo con Scizzo Vediamo un po' Vediamo un po' La difesa ce l'ha Scizzo Potrebbe anche resistere Potremmo utilizzare Un iperraggio Eh Usa terremoto Via Non ci siamo Non ci siamo Non ci siamo No no Non ci siamo Soltanto 3 Pokemon Io manderei Jellycent E poi per ultimo Capitano Kid Il Nami Ovviamente Cioè Bah Giallo raggio Proviamo Terremoto Siamo fuori Siamo fuori Siamo fuori Siamo fuori Siamo fuori Eh Resiste Incredibile Incredibile Celicente Mamma mia Che signore Che signora Anzi Che signora Che gelicente Che signora Si riprende anche con avanzi Archeops Allora Archeops Archeops No Restiamo Perché Voglio Un altro Revitalizzante Max Su Scizzo Perché Comunque Sia C'ha un sacco Di Difesa E può resistere Ad Archeops Intanto Che curo Gelicente Dai 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 Allora Curiamo Gelicente Immediatamente Usa Frana Penso che Resista Benissimo Scizzo Esatto Non è molto Efficace Quindi ci dà il tempo Di ricaricare La nostra squadra Con una velocità Impressionante Revitalizzante Perfetto Usiamolo Su Quello che ha più velocità Per ora Quindi Potrebbe attaccare anche Velocemente Ragazzi Scizzo è stato uno Degli elementi Fondamentali Quindi Axolus Il pokemon più forte È andato Adesso andiamo Con Li sono segnati Oramai Li sono segnati Ragazzi Allora Usiamo l'ultimo Revitalizzante Tanto per avere Al massimo Tutta la squadra Ce l'abbiamo di già Allora Dradeon Terapia è stato Vediamo un po' Io userei Una ricarica totale Immediatamente Su 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 Flygon Che comunque sia C'ha sempre Dragartigli Che può essere Sempre utile Una ricarica totale Immediatamente Su Scizzo Così che Siamo più tranquilli Perfetto Allora Allora attacchiamo noi Adesso Usiamo Gli un Psichico Vediamo un po' Quanto gli possiamo Togliere Eh vabbè L'unica volta che Attacco Tentenna Vediamo un po' Quanto gli togliamo Beh L'abbiamo tolto anche Abbastanza Usa Frana Di nuovo Speriamo che non Tenteniamo Perfetto Uh Grande Scizzo E adesso a questo punto Sarà Draddigon Il suo ultimo Pokemon Ok Tempererò il mio spirito Per renderlo Sì Dopo Allora Sicuramente Avrà mosse Tipo Un terremoto Credo che ce l'abbia Quindi Onde evitare cose Ricarico Scizzo Così per essere Ipersicuro No Ha usato Fuoco al colpo Perfetto Vediamo quanto ci toglie Abbastanza Ma noi Gli possiamo sempre Usare Un metro pugno Così Ovviamente Evita l'attacca Usa lancia fiamme Ovviamente Allora Quindi Scizzo Rimane Viene mandato K.O Allora Mandiamo Flygoll Al 57 Entrambi Due Pokemon Dragon La vecchia La nuova generazione Usiamo Dragartigli Siamo anche più veloci Noi Attenzione Attenzione Flygoll Può essere Il man of the match No No Il man of the match Per ora è Jerry Sente che è riuscito A sconfiggere Axorus E però Adesso Usiamo Un altro Dragartigli Usa Iris Una ricarica totale Non aveva usato Strumenti Wow E' vero Non ci avevo pensato Prima si usava Uno strumento Su Axorus Ero veramente Morto Perché aveva usato Anche Una dragodanza Quindi E dai E dai E flygoll E siamo campioni E siamo campioni Bella gente Siamo campioni Bestiacane Grande Ci abbiamo messa tutta Ma abbiamo vinto Noi Perfetto Perfetto Iris Iris Gravi A aver perso Ma devo dire Che la felicità Sovra di gran lungo Ogni altro sentimento Si sono felice Abbiamo andato In meglio Di noi stessi E non c'è l'uno Al mondo Che aiuti Di più La mutua comprensione Tra allenatori E pokemon Di una lotta Va bene Ora andiamo Dove Uh Si muove Si muove Si muove E si muove La statua Viene Mandata Di sotto Che cos'è Una scala Una grandissima In tre dimensioni Forza Che aspetti Vai avanti Yeee Siamo campioni Campioni Del cuore Perfetto Ora ci ci gioi Graziani Questa è la sala D'onore Qui verrà inciso Il tuo nome E quello della tua squadra Perché vengono ricordati Per sempre In realtà no Perché se ci ritornate Un'altra volta Si saranno Dimenticati di voi E che siete voi Il campione Grazie Bene Curiamo la nostra squadra Tutututututu E adesso Appariranno Scizzoli Lvello 57 Gelicent Lvello 57 Capitano Kid 57 Pokemon Erba Inox Al 53 E poi c'era Nami Ovviamente Perfetto Con 33 ore e 11 minuti di gioco l'ultimo pokemon a sconfiggere è stato flygol perfetto, modalità aiuto che cos'è? modalità aiuto ora può giocare in modalità aiuto le chiave possono essere trasferite con il collegamento fra le spiegazioni nelle mappe dei giocatori ok, sta salvando ovviamente di solito c'era sempre la tiritela di chi aveva fatto il gioco, eccolo qua perfetto, il palazzo della lega pokemon ci siamo noi, yeee siamo noi campioni allora, vediamo un po' cosa succede uh, i super 4 non parlano loro si avvicinano e basta fanno una finta forse siamo noi campioni, perfetto pokemon versione bianca 2, allora l'abbiamo finito, grazie a takao, masufi, sofuke, takao ehm, toibishu e tutti gli altri allora, intanto che scorrono i titoli di coda eh, volevo innanzitutto ringraziare tutti quelli che hanno seguito questa guida e praticamente intendo i 4383 iscritti aggiornati adesso del mio canale eh, per avermi continuato a seguire quelle poche persone perché vedo le visualizzazioni non sono 35.000 come una volta ma quelle poche quando quasi arriviamo a 200 280, 250 mi fa molto piacere vedo che comunque sia la serie vi è piaciuta eh, voglio ringraziare tutti quelli che hanno commentato in questa parte di guida e dico parte perché allora mi avevano detto di continuare appunto eh, con la guida di andare hanno detto molti è ma non è finito qui c'è un po' di cose da vedere penso che ci saranno altri allenatori da riaffrontare o comunque sia se non sono da riaffrontare dovremmo riaffrontare penso anche eh i super 4 ci sarà la possibilità però eh dato che comunque sia eh c'è l'uscita dei pokemon x e y tra po' io volevo un attimo pokemon bianco 2 lasciarlo un secondino da parte riprendere la naziluk challenge e intanto se mi volete dire eh qualche gioco che vi piacerebbe vedere io ora guardo un po' di trovarvelo magari non mi dite gta 5 perché io non ce l'ho e comunque sia evitate di scrivere tipo giochi dell'xbox cioè per l'xbox perché io magari tipo Call of Duty Black Ops 2 se volete qualche gameplay ce ne ho veramente un sacco adesso mi sto divertendo non so come sto facendo ma sto facendo dei risultati assurdi ieri ho terminato con un 42 mi sembro con un 48.4 una cosa del genere e il problema è che non ho una scheda di acquisizione quindi registrare con il telefono la qualità non è a quella massima ed è comunque sia perderebbe un po' tra tutte non so nemmeno dove appoggiare il telefono soprattutto per quello non ho una videocamera per registrare perché se ce l'avessi farei soltanto gameplay in quel modo e quindi non me ne frega un cazzo ok farei soltanto gameplay tra virgolette sull'Xbox il problema è che non ce l'ho quindi molti mi hanno detto cioè pochi mi hanno risposto però mi hanno detto oh compri una scheda di acquisizione una videocamera non ci sono altri metodi non ho comunque sia modo per registrare il gameplay al di fuori di questi due mezzi quindi per ora se mi volete dire un gioco magari che vi piace veramente che si può trovare tipo in versione rom per il per il nostro zoomer che volete che ci facci qualche gameplay qualche guida qualcosa fatemelo sapere nei commenti siete sempre ben accetti i commenti per quanto riguarda altri giochi da fare o comunque sia se vi piace un gioco se esci guarda mi piacerebbe vedere questo gioco perché non fai la guida di questo oppure perché non fai qualche gameplay quindi se magari anche avete già trovato una rom o comunque sia un gioco che funzioni sul nostro zoomer anche se è in inglese non vi preoccupate se è in italiano meglio ancora che vi è piaciuta la volete rivedere non c'è problema ditemelo passatemi link fate quello che volete il canale è comunque sia in parte vostro perché è grazie a voi che sono arrivato fino a qua quindi per ora continuiamo con la nostra Nazi Look Challenge continuiamo con loro e poi ogni tanto vi uploaderò qualche video di Pokémon Bianco 2 se diciamo vi può andare bene altrimenti se volete che continui ancora di più a giocare a Pokémon Bianco 2 per me non ci sono problemi basta che me lo dite io andrò avanti non so nemmeno adesso cosa si può fare quindi la prima cosa che faccio è salvo quindi come al solito vi dico votate commentate ed iscrivetevi questa volta la parte fondamentale del commentate io la sottolineerei perché appunto mi serve veramente la vostra opinione su tutto questo cioè sul cosa giocare cosa continuare se avete qualche idea o qualcos'altro niente io come vi dico lo ripeto commentate per quanto riguarda il futuro almeno in parte di qualche guida nell'attesa di Pokémon X e Y vi dico che farò la guida quando ci sarà una ROM fissata anche se in inglese però che funzioni e non crash ogni due secondi come era questo maledetto Pokémon bianco 2 quindi come al solito vi saluto un abbraccio forte a tutti quanti e un ciao ragazzi siamo di nuovo campioni ciao ciao